Ora la parola a un carissimo amico di sua santità, il Dalai Lama e sostenitore, Richard Gere. Non ho più parole in italiano, scusate, questo era tutto. Fabrizio Pallotti, questo non è un evento politico, ma la realtà è che tutto ciò che sia politico, perché le Chinesi hanno fatto questo modo. Allora, I'm here for the last few days taking incredible teachings with His Holiness the Dalai Lama. Again, giving really deep and profound teachings on the nature of reality, the nature of consciousness, compassion, love, acceptance, inclusion. Questo non è un evento politico, è un evento spirituale, però a causa dei Chinesi che hanno fatto sì che tutte le attività di sua santità diventano politiche, sembra che anche questo lo sia. Io sono qua in veste di studenti, sono venuto a prendere questi insegnamenti incredibili sull'amore, la compassione, la natura della realtà, la natura della coscienza che abbiamo avuto in questi giorni. Grazie. Wherever His Holiness goes, obviously, He creates this incredible atmosphere, where I think there are about 12,000 people here, is that right? 12,000 people. Somehow it feels like there are about 10 people, because everyone is of the same heart. We came here with the same intention of feeling bigger and better and more loving and compassionate than we were before we came here. Per cui, dovunque Sua Santità e Dalai Lama è presente, crea questa atmosfera che abbraccia tutti quanti, di grande calore. Qua siamo in 12,000, sembra quasi di essere in una qualche decina, perché c'è questo senso di unità, di calore, di intensità, di abbraccio. Ci sentiamo tutti più grandi, più capaci di abbracciare. E infatti ogni volta che è presente Sua Santità, ogni volta che parla, tutti si sentono benvenuti. Ecco perché c'è un'inclusione di tantissime anche altri rappresentanti delle altre religioni, dei cristiani, ebrei, musulmani, sufi. Questo perché? Perché è proprio l'attitudine di Sua Santità, quella di abbracciare, di tenere tutti insieme. C'è un poema di un poema di Sufi, di un poema di Sufi, di un poema di Rumi. E mi viene in mente, prima di venire, ho trovato questo poema di Rumi, a cui sono particolarmente affezionato, e mi viene da dirlo a voi. Vieni, vieni, chiunque tu sia, se sei uno che vaga, se sei uno che offre rispetto, se ami lasciare, non importa. Il nostro non è un convoglio di disperazione. Vieni, anche se hai rotto i tuoi voti un migliaia di volte. Vieni, e ancora vieni, continua a venire da me. And that's the world we're all looking for, isn't it? When we can break our vows, we do the best we can, we break our vows again, we try again, we make mistakes, we try again, but we're still included, it's okay. We're still, with His holiness, we're still in the larger ideas that a human being can have. Ed è esattamente, non è forse il mondo che noi vogliamo, un mondo che abbraccia, inclusivo, che non importa. Continuiamo a rompere i nostri voti, le nostre promesse, le nostre intenzioni, le rigeneriamo ancora. E di nuovo vogliamo essere inclusi, siamo ancora in quello che è l'abbraccio grande di Sua Santità e Dall'Ai Lama. Ed è questo esattamente quello che vogliamo che il mondo sia. Mi piace anche essere qui, perché? Perché i tibetani sono gli italiani asiatici. Per cui per tutti noi questo non è il convoglio della disperazione, è il convoglio dell'amore universale. E siamo qui con Sua Santità, il Dall'Ai Lama, guidato da Lui, che è il leader dell'amore universale. Grazie a tutti, grazie mille. Grazie. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Prendimi sedia. Get the chair. Cheda che c'è. C'è chi? Prendimi ad un cuore che sulla genere. Con chi? Non pari adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 자�olici? Grazie a tutti.